Vi è un chiaro progetto accademico attorno al pianeta del tartufo marchigiano nel mondo che si orienta su 5 asset. Il primo è il brand tartufo tutto l'anno nelle Marche e in tutto il mondo che prevede l'utilizzo di tutte le nove tipologie edibili per 11 mesi all'anno in tutte le colline, in tutti gli areali e in tutte le vallate delle Marche e in tutta la ristorazione. Il secondo concetto ha previsto la nascita del firmamento stellato per la valorizzazione del tartufo Marche nel mondo. I nostri chef stellati sono i nostri ambassador del tartufo nel mondo e sono i grandi paladini della ristorazione e accanto a loro portiamo avanti anche il lavoro delle piccole trattorie, osterie e ristoranti anche non stellati. Il terzo asset è l'etica del tartufo nella ristorazione, un elemento molto importante perché entrano in accademia sulla base di un decalogo di qualità solo coloro che sono lontani anni luce dalla chimica, dal bismetil, tiometano e dagli aromi. E per noi questi ragazzi sono paladini del tartufo, sentinelle della qualità alfieri del Made in Italy. Il quarto asset è quello di avere nelle Marche tutti gli areali più importanti d'Italia. Se il Montefeltro è il terroir del tartufo bianco, il Piceno è il paradiso del tartufo nero pregiato che manifesta un'eleganza stratosferica ed unica. Il quinto asset è il blasone di avere nelle Marche il tartufo e il vino perfetto. Il tartufo nero del Piceno ama il vino rosso piceno superiore a tavola perché laddove nasce la roverella che produce il tartufo, lì accanto c'è un filare di Sangiovese e Montepulciano che ci regala il vino rosso più garbato e sicuramente più facile da abbinare al tartufo e solo così raggiungeremo la perfezione a tavola. Il piacere di raccontare all'ospite un messaggio d'amore è quello di poter regalare un sogno enogastronomico e turistico di piena marchigianità ed è anche un messaggio unico del tartufo che è un gesto d'amore e di autentica territorialità.